L'atmosfera natalista è pronta ad invadere il centro storico di Forlì. Con l'accensione delle luminari avvenuta nel fine settimana appena trascorso, ha preso il Via Enrico, programma di iniziative presentate dall'amministrazione comunale che animerà il cuore della città in occasione delle festività. Ci saranno alcune importanti novità, appunto, che sono determinate dalla pista di patinaggio che collocheremo nelle liste centrali di Piazza Saffi e che ovviamente si rivolgerà a un pubblico di bambini da 0 a 90 anni nel senso che prevalentemente cercherà di intercettare i bambini, le scuole attraverso una gestione portata avanti dagli enti di promozione sportiva e quindi cercando di coniugare il gioco e lo sport ma sicuramente rivolta anche a un pubblico più grande, quindi di adolescenti, di giovani e di adulti. Non solo la pista di patinaggio ma contribuiranno a creare un'atmosfera magica nel cuore della città una giostra dei Cavalli Antica, un grande albero di Natale alto 11 metri 120 corpi luminosi allestiti nei corsi e nelle principali vie del centro storico oltre a numerosi altri appuntamenti che spazieranno dall'animazione alle iniziative culturali dai mercatini alle rappresentazioni religiose unico programma reso possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni e realtà del territorio. Se non ci fosse stata coesione e volontà di tutti di credere in questo progetto sicuramente non saremmo riusciti a realizzarlo sono 79 mila euro che comprendono tutti i costi delle iniziative del Natale questa è la parte economica in realtà questa iniziativa costa molto di più ma tutta la differenza è messa dal cuore e dall'impegno e dalla volontà delle persone questa pensiamo che possa essere un motivo per rendere più attrattivo il centro storico quindi riportare più persone in centro e anche per cercare di riportare a una dimensione più intima, più raccolta il Natale in centro storico a Forlì.